Un magistrato indipendente riservato di grande professionalità, così è stato ricordato Rosario Livatino, il giudice ragazzino ucciso in un agguato di mafia 19 anni fa sulla statale Sciacca Agrigento. Il capo dello Stato lo ha definito un esempio di integrità morale, di passione civile insieme. Livatino aveva appena 38 anni. Oggi il ministro guardasigilli, Angelina Alfano, ha voluto ricordare il sacrificio del giudice Livatino intitolandogli la Sala Verde del Ministero della Giustizia, quella dove si celebrano gli incontri di più alto livello del Ministero. È stata anche l'occasione per riaffermare il concreto impegno antimafia del governo, seguendo la strada ideale tracciata dallo stesso Livatino. Si può senz'altro essere un giudice silenzioso e operoso e allo stesso tempo temutissimo dalla criminalità organizzata, che si può lavorare laboriosamente nel silenzio ed essere e apparire imparziali. E per una crescita autentica della cultura antimafia sono stati gli studenti siciliani delle scuole di Agrigento, Favara e Canicattì a ricordare l'esempio e l'impegno civile del giudice ragazzino.